Buonasera a tutti, mi sentite? Benvenuti a questo secondo incontro del piacere dell'ozio. Stasera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Ferrari e il professor Petrucci. Due parole sui nostri ospiti. Franco Ferrari è professore di filosofia antica all'Università di Pavia, è uno dei massimi esperti di Platone e di storia del platonismo. Ricordo il suo studio monumentale su Plutarco, Dio, Idee e Materia, ma il professor Ferrari è noto anche al grande pubblico per le sue traduzioni dei dialoghi platonici, il menone, il teteto, le leggi e più recentemente anche per due saggi, uno è un'introduzione a Platone e uno uscito proprio l'anno scorso, un'introduzione alla Repubblica di Platone. Il professor Federico Petrucci è professore di filosofia antica qui nel nostro teneo a Torino. Anche lui è autore di studi fondamentali su Platone e la storia del platonismo. Ricordo la sua monografia Taurus of Beirut, The Other Side of Middle Platonism, ma appunto anche lui ha curato per il grande pubblico traduzioni di dialoghi platonici come L'Ipia Maggiore, Minore, L'Oione e il Menesseno. Hanno curato la introduzione, traduzione, edizione critica e commento del Timeo per Lorenzo Valla. Si tratta di un'opera veramente unica per la sua complessità e ricchezza. Il Timeo è un'opera che ha avuto una fortuna enorme nei secoli successivi e questo volume ha proprio il merito di riuscire a restituire la complessità del dibattito che un'opera come il Timeo ha sollevato. Ed è effettivamente sia accessibile al grande pubblico, ma è anche uno strumento di lavoro estremamente utile per gli studiosi. Come sapete il Timeo è appunto uno degli ultimi dialoghi che Platone scrive. ha una forma un po' particolare perché inizia come un dialogo tra interlocutori, Timeo, Crizia e Socrate, ma dopo il racconto del mito di Atlantide da parte di Crizia di fatto tutto il dialogo consiste nell'esposizione da parte di Timeo di dottrine cosmologiche. Timeo racconta di come un demiurgo ha generato il cosmo, ha generato un'anima cosmica e poi appunto il discorso di Timeo spazia dalla psicologia all'etica a dottrine sull'anatomia dell'essere umano e degli animali. Quindi insomma è un'opera estremamente ricca. Una prima domanda che vorrei rivolgere al professor Ferrari è quali sono state le principali sfide e le principali difficoltà dello scrivere un'introduzione a un'opera come il Timeo, un'introduzione che di fatto è uno studio monografico. L'avete chiamata introduzione ma è diciamo uno studio estremamente complesso e approfondito di tutti gli aspetti del dialogo e della sua fortuna. Quindi volevo sapere quali sono state le principali difficoltà e sfide. Sì, buonasera a tutti. Prima di tutto, certo lei ha ragione, è una introduzione diciamo perché prevedeva il format della collana, prevedeva un'introduzione però ha in effetti il profilo di una monografia. Io ho cercato di ricostruire partendo dall'enorme successo che ha avuto il Timeo nel corso della tradizione filosofica e scientifica occidentale, cioè Timeo è indubbiamente il dialogo platonico che ha esercitato l'influenza più ampia e profonda sulla tradizione filosofica e scientifica occidentale e ho cercato di ricostruirne le ragioni accompagnando il lettore nella trama del dialogo cercando di enfatizzare anche gli aspetti che solitamente vengono marginalizzati ad esempio il contesto in cui accade l'incontro raccontato da Platone siamo ad Atene in una giornata di un'estate imprecisata tra il 429 e il 422 non ci sono altri elementi che ci consentono di fissare con più precisione la data e Platone mette in scena un incontro che avviene nella casa di un suo parente il celebre e famigerato Crizia tra Socrate e un personaggio che è uno dei pochissimi personaggi fittizi cioè non storici raffigurati nei dialoghi di Platone si tratta di Timeo proveniente dalla città calabrese di Locri che sarebbe una sorta di colonia pitagorica anche se poi è tutto da stabilire che tipo di rapporto abbia col pitagorismo ebbene volendo appunto rispondere alla sua domanda il tentativo è stato appunto quello di ricostruire il contenuto del dialogo valorizzando l'importanza che esso ha avuto nel corso della intera tradizione penso alla componente astronomica, matematica e naturalmente teologica e cosmologica e cosmogonica valorizzando però appunto l'aspetto narrativo che percorre per così dire almeno la prima parte dello scritto Grazie Una domanda analoga la vorrei rivolgere al professor Petrucci ma questa volta in relazione all'edizione critica e alla traduzione quindi quali sono state le principali difficoltà nell'affrontare l'edizione critica di un'opera appunto come il Timeo quali sono secondo lei le principali novità di questa nuova edizione e anche le difficoltà invece della traduzione Grazie, buonasera a tutte e tutti intanto la difficoltà principale per quanto mi riguarda l'inizio è l'ansia nel senso che affrontare il Timeo è insomma una di quelle cose che mette una certa ansia dal punto di vista tecnico c'è un debito che va sempre riconosciuto nei confronti di uno studioso in particolare che ha ricostruito la tradizione manoscritta diciamo del testo greco che è Gisbert Junkers che ha dato una nuova immagine dei manoscritti più importanti che ci consentono di leggere il Timeo su quella base sono stati individuati alcuni testimoni medievali principali e quindi il compito è stato un po' più semplice viene riconosciuto questo debito di conoscenza allo studioso e quindi la cosa più interessante è lavorare su manoscritti diciamo che nessun altro editore aveva considerato importanti e andare a scoprire anche aspetti inaspettati se vogliamo ad esempio che specialmente in uno di questi manoscritti c'è un ritorno di un antico lettore del Timeo nel IX secolo che probabilmente leggeva una versione che non ci è giunta e appuntava delle varianti possibili a margine ecco, quella è stata probabilmente la cosa più interessante nella ricostruzione della tradizione nella lettura della tradizione un'altra cosa molto importante sono le citazioni cioè la tradizione indiretta la fortuna del Timeo è enorme si trova citato da filosofi, letterati, scienziati padri della chiesa e considerare tutte queste citazioni notare le divergenze, le rilaborazioni e cercare di farci qualcosa di farli interagire con il testo dei manoscritti è una grossa sfida e poi la sfida della traduzione è enorme e ovviamente parlando di sfida non sto implicando di aver la vita perché c'è stato solo il tentativo perché il Timeo, come già diceva Arianna Piazzalunga ha sezioni estremamente che potremmo quasi definire poetiche di fatto è una prosa poetica perché alcuni dei concorrenti di Platone sono i poeti e poi ci sono sezioni matematiche estremamente tecniche con dei salti immediati molto spesso senza una transizione tenere insieme tutti questi registri probabilmente è una delle sfide principali l'altra è legata come sempre in Platone ai Termini Demiurgos che è il nostro amico Demiurgo tutti conoscono il Demiurgo ma possiamo tradurlo Demiurgo? la mia risposta sarà no alla fine perché la traduzione non doveva rispecchiare la nostra idea di Demiurgo però anche lì è un tentativo e questi problemi si riflettono di volta in volta in molte sezioni grazie un altro aspetto interessante come diceva all'inizio è che appunto parliamo di dialogo ma di fatto si tratta di una lunga esposizione da parte di questo personaggio Timeo che peraltro premette al suo discorso il fatto che si tratterà di un racconto verosimile e quindi volevo chiedere al professor Ferrari in che modo diciamo sia il fatto che ci sia un lungo monologo da parte di Timeo sia questa premessa fatta da Timeo ci indirizzano a leggere il dialogo cosa ne dobbiamo trarre insomma? Certo, lei dice bene Timeo introduce la sua lunga esposizione dedicata all'origine e alla costituzione dell'universo dichiarando che non si tratta di una esposizione in grado di pervenire alla verità perché intorno ad una realtà come è l'universo generata cioè soggetta a modificarsi costantemente immersa in un costante flusso Platone definisce questa condizione ontologica ricorrendo al participio to gignomenon cioè ciò che diviene ebbene intorno ad una realtà di questo tipo è impossibile conseguire una conoscenza certa affidabile di carattere universale e stabile una conoscenza di questo tipo è conseguibile solo intorno a ciò che è o meglio a ciò che è sempre che come certamente molti di voi sanno nella filosofia di Platone è costituito dal mondo delle idee che permangono sono sempre identiche a se stesse invece il mondo del divenire appunto perché è continuamente immerso in processi e mai identico a se stesso non consente una conoscenza certa Platone dice che questo tipo la conoscenza la più alta forma di conoscenza che si può raggiungere del mondo del divenire è la verisimiglianza o meglio prima dice che è la pistis cioè la fiducia la credenza che è una forma di doxa di opinione per così dire poi specifica questa natura diciamo del discorso relativo all'universo dicendo che è un discorso dicendo che è un discorso verisimile non vero e tuttavia simile a quello vero ma Timeu fa un ulteriore passo in avanti che è ancora più se vogliamo disturbante dal punto di vista della nostra mentalità scientifica perché arriva a dire che il discorso sull'universo è certamente un discorso verisimile ma è ancora meglio è un eikos mutos cioè un racconto verisimile dove in qualche modo prepara il lettore ad ascoltare un'esposizione fortemente connotata in termini narrativi è una narrazione e Platone mette in scena questa narrazione immaginando che l'universo come noi lo conosciamo sia il prodotto di un atto artigianale compiuto dal celebre Demiurgo da questo divino artigiano che plasma una realtà che gli preesiste dando così origine all'universo che è una realtà corporea e animata oltre che intellegibile e questo è un aspetto fondamentale cioè l'idea che dell'universo fisico non si possa veramente conseguire un formulare un discorso epistemicamente forte perché è la natura stessa dell'oggetto che lo rende impossibile poi c'è un altro motivo e vado a concludere la mia risposta significativo che spiega il carattere appunto di eicos mutos di racconto verisimile e lo voglio dire anche perché è presente il professor Gabor Betek dell'Università di Cambridge che ha studiato questo aspetto e cioè il fatto che Platone mette in scena nella forma del ragionamento verisimile del discorso verisimile il ragionamento che il demiurgo compie e si tratta di un ragionamento non di carattere teoretico ma di carattere pratico per così dire e questo è un altro aspetto come dire che scandisce la natura di questa esposizione sì quindi in qualche modo è chiaro che ci sono anche molti problemi ancora aperti che sono proprio legati alla formulazione insomma al modo in cui Platone formula il dialogo il fatto che ponga in qualche modo a volte una distanza o faccia delle allusioni e appunto questa complessità è resa benissimo dal vostro volume che sottolina come il dibattito sia ancora aperto e ancora vivo e quindi volevo chiedere al professor Petrucci quali sono secondo lei i principali problemi ancora aperti poi in realtà questa domanda forse è rivolta anche a entrambi se volete sì anche perché davvero sono tanti una tra le cose peculiari del Timeo forse la cosa che lo rende uno tra i testi più peculiari ancora oggi è che è il testo forse più dibattuto in in 2400 anni ma su cui si diverge ancora circa i punti più fondamentali è un dialogo sulla generazione del cosmo di fatto il tema meno per come mi sembra emergere dalla presentazione di Timeo non è tanto se il cosmo si è generato oppure no ma in che modo si debba intendere che il cosmo è generato e quindi quello è il punto fondamentale non è quello che Platone come prima cosa vuole dirci e non c'è un accordo su cosa Platone veramente ci stia dicendo circa questa cosa cioè sulla risposta che Platone dava alla domanda in che modo in che senso il cosmo è generato il che vuol dire divergere sul cuore del 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 dialogo e quindi abbiamo dall'antichità no si scontrano due letture e qui c'è un altro elemento di peculiarità perché noi ci aspettiamo il modo più semplice più semplice più diretto generalmente per andare a scoprire cosa veramente pensava Platone e andare a chiederlo ai primi allievi perché uno diceva bene i primi allievi ci parlavano e magari l'avevano capito meglio di noi che siamo lontani però se uno va a interrogare i primi allievi abbiamo due allievi fedeli molto fedeli non troppo più di altri diciamo sono Speusippo e Senocrate sono gli accademici quelli che Platone aveva messo lì nell'accademia come alfieri della sua scuola che dicono il cosmo non è stato generato nel tempo non c'è un T0 va bene ok loro sanno come funziona questa cosa peccato che ci sia un altro allievo meno ortodosso molto meno ortodosso ma un po' più intelligente che Aristotele Aristotele ci dice no in realtà per Platone il cosmo è generato e questo crea un grosso problema non si capisce chi ce l'abbia con chi e questa è anche una fortuna perché ci ha lasciato la possibilità di dibattere ancora su questa faccenda e poi il dibattito non si è mai fermato no arriviamo alla fine del neoplatonismo Proclo Filopono continuano a scannarsi su questo e di fatto il dibattito sì volevo arrivare a dirle in modo un po' più morbido la cosa interessante di lavorare su questo dialogo una delle cose interessanti è stata proprio questa nel senso che poi intanto Franco lo dirà in modo più chiaro di me la sua lettura io l'ho forse un po' più morbida ma simpatizzo in qualche modo anche per una lettura temporalista diciamo con il demiurgo che genera in un T0 ma sono dispostissimo ad ammettere che questo crea tantissimi problemi filosofici e ne dico uno per tutti cosa diavolo c'è prima del cosmo cioè se c'è un T0 ma il demiurgo non genera dal nulla cosa c'è prima Platone ce lo dice cosa c'è prima cioè c'è una sezione nel Timeo in cui si dice quello che c'è prima della generazione del cosmo e c'erano essere spazio il ricettacolo quella che è chiamata Cora generalmente nella manualistica e generazione e però cosa voglia dire che c'è la generazione prima della generazione del cosmo non è facilissimo capirlo sono due pagine tra le più enigmatiche della storia del pensiero occidentale direi e questo problema qua si porta dietro tanti altri problemi il demiurgo c'è non c'è chi è magari su questo si può tornare più nel dettaglio dopo cosa fa l'anima cosmica se è stata veramente generata ad un certo punto oppure no a catena tutti questi problemi rimangono un altro problema è legato anche all'essere umano cioè se il cosmo è generato a un T0 anche le specie partono da un T0 e se il cosmo è eterno le specie sono eterne diciamo che è appunto una massa di problemi enormi e probabilmente cioè la ragione per cui il T0 è così seminale si direbbe e ragione per cui è una icona culturale l'hanno definita così anche questa che ha aperto una massa di problemi talmente grande che non si sono risauriti mai sono stati sviluppati in tutte le direzioni questi sono i problemi che io vedo come ancora aperti non so se Franco sottolinearne altri o sì forse basti basti tenere presente che quando Timeo all'inizio del suo discorso ha il problema di situare l'universo in uno dei due insiemi ontologici in cui l'intera realtà si divide la realtà qualsiasi ente è appartiene o a ciò che è sempre o a ciò che diviene e Timeo a questo punto ha il problema di situare l'oggetto del suo discorso cioè l'universo che chiama Topan il tutto ma chiama anche Cosmos chiama anche Uranos cielo ma intende ciò che chiude l'universo ebbene di situarlo in uno di questi due insiemi si chiede ma dunque l'universo era sempre senza un principio di generazione oppure è nato a partire da un principio e la risposta è quella che tutti noi ci aspetteremmo ma il modo in cui egli la formula rimane un autentico mistero perché dice Ghegone è nato ricorre a un perfetto al perfetto del verbo Ghegnonai affermando che il cosmo si è generato ora questa parola questo perfetto con cui Platone risponde alla domanda sulla natura dell'universo è la parola più commentata dell'intera letteratura greca in prosa esistono addirittura degli dei trattati antichi penso ad esempio proprio a un trattato di un platonico del secondo secolo su cui Federico Petruccia ha scritto un bellissimo libro e cioè Lucio Calveno Tauro il quale ha dedicato appunto un trattato proprio a questa parola al significato di Ghegone si è generato e dell'aggettivo Ghenetos cosa vuol dire che il cosmo è generato quindi questo è davvero un interrogativo fondamentale che ancora oggi a distanza di 2400 anni dalla redazione del dialogo non ha una risposta come diceva Federico Petrucci io e lui abbiamo opinioni un pochino diverse cioè nel senso che io sono un convinto partigiano di un'interpretazione metaforica didascalica secondo la quale non esiste un T0 ma l'universo è eterno è ingenerato e la generazione di cui parla Platone cioè la nascita di cui parla Platone è semplicemente un espediente narrativo il cui fine è spiegare in maniera didatticamente efficace la struttura del cosmo e ad esempio secondo me il ricorso alla narrazione cioè al mito è esattamente l'espediente a cui Platone solitamente ricorre quando deve spiegare la natura di un fenomeno di fronte al problema della spiegare la natura di un fenomeno che può essere ad esempio Eros l'amore che è una componente fondamentale della filosofia e del pensiero per Platone ebbene nel simposio ne spiega la natura raccontando il mito dell'origine di Eros che nasce da Poros e da Peinia cioè dall'espediente dalla povertà dalla mancanza ancora nel Fedro quando deve spiegare la natura della scrittura i rischi a cui si espone e certamente anche i vantaggi che comporta ricorre al mito dell'origine della scrittura ebbene io credo che nel caso del cosmo le cose si erano in questa maniera cioè di fronte al problema di definire la natura del cosmo Platone mette in scena un racconto che scandisce secondo l'ordine del tempo la struttura del cosmo ecco questo è diciamo il punto che a me sembra fondamentale ma su cui appunto con Federico abbiamo dei leggeri punti di divergenza chiuso su questo ma anche per raccontare quando abbiamo insomma portato avanti questo lavoro che siamo confrontati progressivamente e le prime versioni del commento Franco girava me la parte di introduzione giravo traduzione il commento e in un passaggio è stato Franco mi ha detto quindi tu comunque tendi più per il temporalismo quindi per questo T0 sì in effetti sì io ho fatto no no va bene non equivale essere delle SS e questo vuol dire che praticamente la soglia è abbastanza alta detto questo però ora per non per non far sembrare insomma che ci sia un contrasto dentro al volume il tentativo è solo quello poi di proprio sottolineare la dialettica che c'è tra le posizioni quindi essere chiari sulle varie posizioni ma al contempo bilanciarle nei modi più più equilibrati diciamo così e dare conto anche della ricchezza del dibattito ecco questo è uno tra i fini complessivi aggiungo una piccola cosa perché c'è quel gegone appunto che è un problema enorme ma poi c'è anche un altro termine che è un grosso problema che è archè che in greco come in italiano può voler dire due cose no? principio nel senso cronologico oppure principio nel senso causale e Platone è in qualche modo comunque ambivo e anche nell'antichità c'è stato un dibattito molto molto vivo con alcuni che hanno detto no è impossibile che qui archè voglio dire principio cronologico e torniamo appunto al problema della traduzione che non è un problema di traduzione in senso stretto perché il principio è principio ed è un vantaggio l'italiano il fatto che riesca a mantenere l'ambiguità ad esempio l'inglese questa cosa non la può fare direi che queste riflessioni fanno sorgere la domanda di quindi come dobbiamo interpretare la figura del demiurgo cosa insomma appunto Platone ci dice che il cosmo è stato generato da questo dio artefice e ne descrive come dicevate i ragionamenti ne descrive le azioni quindi come dobbiamo interpretarlo ma anche quali sono le interpretazioni a cui questa figura è andata incontro perché come abbiamo detto il timeo ha avuto una fortuna enorme e questa figura del demiurgo è stata letta davvero in moltissime chiavi diverse certo il demiurgo è come probabilmente tutti noi sappiamo la figura teorica più celebre del timeo chi non conosce chi non ha sentito dire di questo artigiano divino che plasma l'universo costruisce l'universo e che Platone chiama anche Dio chiama espressamente Dio al nominativo diciamo al nominativo maschile Theos Dio e che naturalmente ha avuto una fortuna straordinaria basti pensare al successo che ha avuto presso gli autori cristiani impegnati mi riferisco soprattutto ai padri della chiesa impegnati nella costruzione di una dogmatica che abbia consistenza filosofica siamo tra il primo e il terzo secolo dopo Cristo si sono immediatamente rivolti al timeo perché affascinati da una figura come quella di questo artigiano divino che assomiglia straordinariamente al Dio della Bibbia al Dio del libro della Genesi sebbene naturalmente il Dio platonico non è certamente un Dio creazionista perché preesiste una condizione corporea e cinetica di continuo movimento disordinato preesiste all'opera di ordinamento ma io credo che l'importanza della figura del deniurgo sia duplice e anche le ragioni del successo di questa figura siano duplici come duplice è la prospettiva che Platone suggerisce al lettore cioè il racconto della operatività di questo artigiano bisogna naturalmente tenere presente che non tutto il Timeo ruota intorno alla metafora artigianale dell'artigiano che fabbrica l'universo ce n'è una parte cospicua soprattutto la prima parte ma non l'intero discorso di Timeo in ogni caso Platone invita ad assumere una doppia prospettiva da una parte la prospettiva di un osservatore esterno che contempla questo artigiano divino all'opera dall'altra e secondo me l'aspetto più affascinante Platone entra nella mente di Dio ed è il primo caso nella storia del pensiero in cui il lettore è come dire introdotto nella mente di Dio e coglie le ragioni di questa operatività perché il demiurgo questo divino artigiano agisce in un determinato modo ne coglie i pensieri le riflessioni perfino i momenti in cui si rallegra per aver prodotto qualcosa in particolare il cosmo ecco io credo che la presenza di questa doppia prospettiva sia davvero significativa sia una delle ragioni del successo straordinario che ha avuto il Timeo rimango naturalmente convinto che l'osservatorio demiurgico sia prevalentemente un osservatorio di carattere analogico e metaforico anche perché e concludo Timeo all'inizio del suo discorso indica al lettore le due analogie entro le quali intende esporre la generazione dell'universo la prima analogia è quella demiurgica perché si dice che la causa dell'universo è un poietes cioè uno che fa esattamente un demiurgo un artigiano un artefice se vogliamo proprio tradurre poietes nella maniera più corretta ma è anche pater cioè padre un'altra metafora che ha avuto grande successo nella tradizione teologica e religiosa cristiana è anche padre ma evidentemente l'immagine della paternità è molto diversa da quella artigianale perché il padre presuppone una relazione biologica con il prodotto è come se l'universo fosse Platone lo dice chiaramente fosse il figlio generato da un padre e da una madre un figlio quindi che è simile al padre per così dire mentre la metafora l'immagine demiurgica non comporta una somiglianza e una continuità questo che noi viviamo percepiamo questo aspetto come contraddittorio per Platone a mio modo di vedere non lo era perché non si tratta di descrizioni scientifiche ma appunto di metafore di analogie che possono aiutare il lettore nella comprensione della struttura dell'universo fisico se posso tutto questo qui apre complessità enormi anche per come Platone rappresenta per gli aspetti più letterari e specifici di questa prosa poetica di Platone che ha reso questa figura molto più attrattiva se vogliamo di un motore immobile per il modo in cui la tradizione intendo qua c'è un passaggio le due righe che sono questa è una delle sezioni forse più citate andate a guardare tutte le citazioni c'è una lista lunghissima perché il Demiurgo grazie a questa prospettiva che prende Platone mettendosi nella testa di Dio può anche parlare quindi c'è la prosopopea del Demiurgo che parla all'idea generati delegando all'idea generati la costruzione di realtà ristruttibili e questa è potentissima come immagine e non a caso inizia dicendo dei di dei cos'è il Demiurgo che parla dei di dei le opere di cui sono artefice e padre per mia arte feci che fossero generate non dissolvibili perché io non ho voluto che lo fossero ma in due righe cioè intanto questo dei di dei non si capisce esattamente cosa voglia dire dei fatti da dei dei tra gli dei e così via dei figli di dei la traduzione anche qui salva un po' perché è ambiguo il greco è ambiguo l'italiano però poi bisogna capire di cosa stiamo parlando poi aggiunge Platone qui una etimologizzazione questa è una cosa che sarà dimostrata da altri studiosi perché Demiurgos artefice è etimologizzato diciamo da Ergon Diemu che se si legge al contrario è Diemu Ergon e suona come Demiurgos sostanzialmente vuol dire che il Demiurgo è colui il quale fa per arte delle opere e questo è quello che fa il Demiurgo e poi lui dice per mia volontà non vogli che fossero distrutte è chiaro che uno può decidere di optare per una lettura metaforica di questa volontà il principio causale fa sì che il cosmo non venga distrutto oppure può optare per una versione intenzionalista o provvidenzialista ogni lettura ha vantaggi e svantaggi ma la cosa fondamentale è che tutta la tradizione può recepire entrambe se vogliamo le letture e lo fa tra l'altro anche perché Platone propone in questo modo con questo stile e tra l'altro l'ultimo che volevo dire è che fra questo Platone poi va a gareggiare con i predecessori cioè quella tutti questi aspetti letterari sono già di Esiodo soprattutto Esiodo ha scritto una teogonia e quindi di fatto in questo modo Platone fa implicitamente quello che talvolta fa esplicitamente cioè dire io ho fatto la cosa migliore sul cosmo che mai sarà scritta sostanzialmente la tipica modestia platonica che si manifesta via via non c'è dubbio posso fare una postilla perché Federico ha fatto riferimento a un passo molto importante anche da un punto di vista filosofico generale cioè al di là della questione se il cosmo ha un'origine del tempo sicuramente per Platone e tutti gli interpreti concordano il cosmo è infinito nel futuro non è chiaro se sia chiuso o aperto anche nel passato questo dipende dalla interpretazione che si assume ma certamente è aperto nel futuro cioè infinito nel futuro ora il problema è stabilire la ragione di questa infinitezza e di questo essere infinito è la volontà di Dio perché in teoria il cosmo essendo una realtà generata dovrebbe essere destinata a perire come tutte le realtà generate e tuttavia il demiurgo stabilisce che la sua volontà è più forte della logica intrinseca alla realtà e questo è un tema come potete immaginare che ha suscitato un grande interesse sia nei teologi platonici sia nei teologi cristiani naturalmente perché comporta una questione fondamentale cioè la superiorità della teologia o della volontà divina nei confronti della logica stessa della natura della realtà e qui è l'origine di questo dibattito proprio in questo passo del timeo di Platone sì è uno degli aspetti diciamo fondamentali dell'opera del demiurgo e in generale uno degli aspetti fondamentali del timeo è il ruolo ricoperto dalle matematiche il fatto che il demiurgo è chiamato artefice e diciamo la modalità attraverso cui opera sembra proprio quella di imporre delle strutture matematiche sia sull'anima e sia poi sulla materia e quindi appunto in che modo che cosa significa che l'anima ha una struttura matematica e che cosa garantisce questa struttura matematica e in generale qual è la funzione davvero delle matematiche nel timeo sì le matematiche hanno un ruolo fondamentale e il timeo è un testo fondativo per la storia delle matematiche e questo anche è molto curioso nel senso che uno si aspetterebbe che all'origine delle scienze esatte ci sia un trattato che noi riconosciamo come un trattato che ha a che fare con le scienze esatte non un racconto verosimile e invece di fatto anche se non in modo unico e univoco ma il timeo detta una qualche agenda cioè un famoso aneddoto tardio antico in cui si ritrae Platone il cosiddetto aneddoto del Platone architetto delle scienze qui Platone avrebbe commissionato a Eudosso che è un accademico uno scienziato sopraffino uno dei padri della teoria delle proporzioni e dell'astronomia antica gli commissionano di salvare i fenomeni cioè di costruire dei modelli matematici che spieghino i fenomeni astrali probabilmente questo è solo un aneddoto non è mai accaduto davvero che Platone abbia commissionato una cosa di questo tipo ma in fondo c'è chi non è d'accordo ma a mio avviso è così in fondo questa è la sostanza del timeo cioè spiegare in termini razionali le dinamiche della realtà e il modello razionale più forte è quello delle matematiche cioè la ragione della forza delle matematiche nel timeo è questa che la matematica ci consente di leggere ordinatamente la struttura del cosmo che non sempre sembra ordinata e non non mi riferisco solo al fatto che ci sono degli apparenti disordini quotidiani ma anche il moto dei pianeti non è ordinato come il moto delle stelle e si potrebbe dire che il moto dei pianeti è disordinato pianeti deriva dal greco planao in generale e sono gli astri erranti che Platone ci può dire grazie al fatto che l'anima cosmica sia matematicamente organizzata e che i pianeti di fatto seguano le indicazioni delle orbite dell'anima cosmica che non è vero che i pianeti si muovono in modo disordinato si muovono in un modo complesso ma razionale la cosa interessante è che poi questo modo complesso non ce lo spiega ci dice il sole la luna sul sole la luna qualcosa ci dice perché sono più semplici da spiegare ma poi dice se dobbiamo pensare agli astri superiori sono soprattutto Marte Giove e Saturno ci vorrebbe un discorso troppo lungo e non si potrebbe fare senza un modello il che è all'origine tra l'altro l'idea per cui in accademia avessero dei planetari di fatto dei modelli che forse sono ritratti uno di questi forse è ritratto nel mosaico dei filosofi dell'accademia che è a Napoli la ragione filosofica è questa la cosa interessante è che c'è una complessità tecnica enorme questo aspetto quello astronomico è chiaro possiamo arrivarci solo per congettura perché ci sono dei termini che diventeranno chiave anche dopo le eliche ad esempio l'elica del pianeta è una cosa che troveremo anche successivamente nella tradizione ma ad esempio la struttura dell'anima cosmica è una struttura complessissima che implica una serie di operazioni di applicazioni della proporzione delle medietà antiche aritmetiche armonica che porta una struttura armonica come una tastiera di un pianoforte talmente grande da non poter essere concepibile eseguita eseguita per un greco del tempo di Platone neanche per un greco del secondo secolo dopo Cristo l'accusa che facevano a Platone i tecnici era questa per costruire una struttura armonica impossibile non intonabile non suonabile e forse questo invece era l'idea di Platone costruire una struttura armonica talmente perfetta che non poteva che essere oltre la pratica e poi c'è la matematica degli elementi perché gli elementi sono tra loro in proporzione e questo ci fa intuire che Platone aveva un'idea dell'applicazione delle proporzioni alle figure stereometriche diciamo e poi i corpi i quattro elementi sono dei corpi stereometrici sono dei soliti perfetti costruiti a partire da triangoli e questo vuol dire sostanzialmente che la matematica è ovunque nel cosmo e seguendo anche quello che diceva prima Franco Ferrari la cosa interessante è che però è il demiurgo che domina le matematiche cioè c'è un passo molto interessante tra l'altro la modifica al testo più interessante di questa edizione c'è un passo in cui Platone torna a parlare dei quanti mondi ci sono che è un tipico problema dei presocratici e a partire dal fatto che ci sono cinque solidi elementari cinque solidi perfetti lui dice ci sono o infiniti mondi questa è un'opzione o cinque mondi oppure un mondo solo infiniti mondi lo scartiamo perché è completamente fuori dalla ragionevolezza e ovviamente questa è una critica come dire io neanche sto a discutere gli atomisti che pensano questa cosa potrebbe è verosimile che ci siano cinque mondi perché il discorso matematico ce lo suggerisce ma c'è un mondo solo perché perché il demiurgo testimonia che c'è un mondo solo perché in effetti ci ha spiegato prima nel dialogo che il ragionamento del demiurgo implica che ci sia un mondo solo anche qui il dio sopra le matematiche sì effettivamente il fatto che il demiurgo sembra ordinare la materia con insomma delle proporzioni matematiche ci fa pensare a una materia che è puramente ricettiva e che non offre nessuna resistenza all'opera del demiurgo eppure in alcuni passi Platone invece sembra far riferimento a una qualche forma di opposizione da parte della materia di questo ricettacolo lo chiama necessità lo chiama causa errante quindi insomma in che modo dobbiamo intendere questo principio spazio-materiale certo è un tema che richiederebbe una discussione molto lunga e che non è ovviamente possibile sviluppare in questa sede si può però fare qualche considerazione secondo nella costruzione del discorso di di Timeo sulla generazione dell'universo Timeo assume due fondamentali punti di vista il punto di vista del demiurgo ed è il punto di vista relativo ai processi e alle realtà razionali e la cui genesi presenta una componente teleologica cioè finalizzata il demiurgo si immagina sia un intelletto che agisce in vista di un fine e quindi i suoi prodotti i prodotti della sua attività sono belli sono buoni e presentano questa componente orientata tuttavia l'universo non è riducibile solo ad eventi e a processi finalisticamente orientati esistono elementi di resistenza e anche elementi che cooperano per così dire del resto l'universo fisico presenta almeno due componenti che non sono immediatamente riducibili ad una operatività finalizzata detto in maniera un po' elegante questi due elementi sono lo spazio e la materia né l'uno né l'altro sono immediatamente riducibili ad una operatività finalizzata ebbene Timio introduce per questo un secondo fattore causale quindi l'intelletto o l'intelletto demiurgico o l'artigiano non è sufficiente per spiegare come è l'universo occorre introdurre un fattore causale irriducibile alla operatività finalizzata e chiama questo fattore causale ananche cioè necessità una parola che lui probabilmente desume da democrito quasi certamente no? Democrito diceva che tutto accade kata ananche cioè senza un fine in maniera necessaria meccanica diremo senza un fine ebbene Platone considera questo fenomeno cioè questo fattore eziologico causale che è appunto la ananche la chiama come diceva poco poco fa Rianna Pizzalunga lo chiama haitia planomene che significa causa planao che erra cioè che non ha una finalità e questa causa comporta quelle due componenti a cui facevo riferimento cioè il luogo in cui l'universo è noi diremo lo spazio ma non è proprio esatto perché Platone usa un'immagine che erroneamente è stata interpretata come una parola tecnica ma in Platone è un'immagine cioè parla di cora la cora è la regione in cui si trova una polis una città è la fonte è la fonte di sostentamento della città quindi la cora è insieme il luogo ma è anche la materia di cui le cose sono fatte per quello quando in genere Aristotele viene considerato uno che polemizza con Platone a volte lo fraintende volutamente perché tale è la sua grandezza filosofica ma in realtà quando Aristotele nella fisica nel quarto libro dice Platone nel Timeo ha detto che lo spazio cioè la cora e la materia sono la stessa cosa dice in maniera sbagliata perché la parola materia non c'è in Platone dice tuttavia una cosa esatta perché in effetti questo principio che è accanto al demiurgo o all'intelletto è un principio che ingloba sia una componente materiale sia una componente spaziale e un'ultima cosa però bisogna dire queste due cause fondamentali dell'universo cioè il demiurgo l'intelletto che è una causa che agisce in vista del bene e la causa errante che agisce senza un fine cioè agisce in maniera meccanica sono sullo stesso piano sono cause cioè equipotenti per così dire la risposta di Platone è molto chiara no e Platone ricorre a una splendida immagine come fa spesso cioè dice che l'intelletto comanda sulla necessità ricorrendo a una metafora cioè dice che la necessità viene persuasa dall'intelletto a svolgere le sue operazioni o per migliorare la maggior parte delle sue operazioni in vista del bene allora cosa cosa significa questo che evidentemente dal momento che l'universo è buono ed è bello è evidente che la razionalità e il finalismo predominano sulla necessità e sui processi ateliologici esiste quindi una qualche forma di orientamento di disponibilità direbbero avrebbero detto gli autori antichi di disponibilità della necessità a farsi persuadere nella metafora che usa Platone dall'intelletto ecco questo è quindi rispondendo alla sua domanda il punto fondamentale cioè l'esistenza di un secondo fattore causale non riducibile a una operatività demiurgica orientata al bene di un secondo Grazie a tutti